Giorellini, Giorellina, adesso faccio il mio video conad e risparmio casa. Via la sigla! Adesso facciamo subito conad che sennò si sconcella tutto. E allora, quando scadli ce l'hanno? Allora, il gelato, nocciolo, e io ho trovato invece questo di soglia, che sembra un cremino, invece di soglia. Allora, soltanto sono solo tre, vedete, sono solo tre, e così non mi fa male, perché si toglie. Questo si toglie. E Giorellino si è comprato la Coca-Cola. E basta, amore, sono risparmi in casa. Allora, al... Qua ho speso... Non so qual è il nostro. Questo. 12,93 euro. Ecco, allora, adesso è risparmio casa. Ho comprato questo qua, che è sfuma di champagne, per mettere quando finisce il sapone, questo è di cambio, quel sapone. Questa marca qui dovrebbe profumare un po'. Ho detto solo qui. Sì. Poi, il mio porcellino d'India che mangia come un porco, un pacco di questo qua, perché pure la paglia qua dentro, è tutto. E sono due. Due pacchi. Poi, ho comprato questo qua, per, eh, cosa intima, detergente intimo. E poi, ho comprato, perché insomma mi faccio quello spruzzo per l'asma, eh, mi devo fare dopo, disinfettare le gengive, con lo spazzolino, e poi, l'ultima cosa, mi devo fare, tutte, due volte alla giorno, col tappo, per, disinfettare, fatti pizzica, a morte proprio. Queste sono invece le pentole. Vedete, questa è più grande, più piccola, più piccolina. Le pentoline nuove. E qui le buttiamo via, sì. ok, non si fa male, il vetrino, perché sta, sta, rompe quelle lì, vecchie, e vengono, non si è fatto male. Il vetrino non si è fatto male. Non si è fatto male. Non si è ammazzato. Il vetrino, se sentite che si è ammazzato, si è ammazzato da subito. Questa è la paglia, sia per i miei porcellini d'India, sia per i cricetti. No, i miei cricetti, il mio porcellino d'India, fatti arresto. Poi, ho comprato questo qua, per lavare i piatti. Ce l'ho, come se uno o due, però per sicurezza, l'ho comprato un altro. A me piace tanto questo, la marca qua, per lavare i piatti, è anche un tanto bene. Allora, poi, ho comprato questo qui, Ajax, per pulire i vetri, voglio vedere come vengono. C'è un sacco di finestre, tantissime. Questo, invece, è per fare il nido, non so se gli basta, a miei inseparabili, perché a settembre si dovrebbero accoppiare e fare il nido, che già c'è il nido, però non l'hanno fatto ancora. Vediamo se lo fanno. Poi ho comprato questo Ajax, uno e due, perché ci pulisco sia di fuori, sia dentro casa, allora, mi sono comprato i due, che sono quattro litri, di Ajax, in un mese, penso che mi passano per pulire sia barconi, sia casa. Che poi io ci metto due cucchiarini, due cucchiarini, due tappetti, di pure asce, barecchina. Tutto bene. Ah, sì. Ecco, poi, ho comprato qualche cosa, la paia, che questa qua, è il cibo del mio porco di Nondimia. Mangia tanta paia, una tantissima paia, che viveva pratta. ecco, poi, l'ultima busta. Ho comprato sempre Ajax, per, sì, ho comprato Ajax, sempre per sgrassare, speriamo, senza orecchina, perché, sono un po' legge, se la tocco qua a mano. Ecco, si può pulire, il tavolino con le sede, il bagno, si può pulire pure, i fornelli. Ajax. Mi piace a me Ajax, mi piace, il sofformio e Ajax. Mi piace. Questi sono i sacchi, perché, io, quando compriamo il pellet, non lo mettiamo qua dentro, dentro il coso qua. Poi, ho comprato questo, per farmi la doccia, che l'avevo pure finito, l'avevo finito, sì. Questo è per la schiuma, la barba, in tinsa, te. Quanto altro forse, l'avevo finito? Questo è invece, per i porcellini d'India, che c'era solo questo, e sono per quel rino, perché lui ha due, due cieli, uno di, lui ha due cieli, io ho due cieli, però, per, ora, quando andrò a Terni, voglio vedere se li trovo, pure io. questo è per i miei cieli, questo è il balsamo, per i miei capelli, e questo è lo shampoo, questo è il dentificio, per i denti, no, perché io ho fatto proprio il frutto, e questo è per i miei cieli separabili, che ci stanno pure, i semi, di girasole. Poi, abbiamo comprato, la carta gelica, POXY, che so, 18 rotoli, e questo qua, la carta, perché quando io lavo le gabbie, sia dei porceli d'India, sia dei gliceti, l'asciugo, prima metti via la paglia, cibo, eccetera. Ecco, è finito, e vi faccio vedere, quando ho speso 92 euro, e 94 cittadini. Adesso ci stanno, i punti, per fare, per vincere, queste cose qua, questi pupazzi qua, acqua e sapone. ci sta tempo, fino al 24 novembre, un bollino ogni 10 di spesa, dal 2 settembre, al 24 novembre, ci stanno pochi punti a fare, e niente, così, mi ha scontro, l'ho fatto vedere, sì, e adesso vi posso lasciare, perché fino a questo video, grazie alle persone, che loro, l'hanno visto, all'inizio della fine, ciao, al prossimo video. Grazie.